In questa lezione mi occuperò di alcuni verbi riflessivi, in particolare vi coniugherò il presente indicativo di sette verbi riflessivi che riguardano le azioni che ripetiamo ogni mattina. I verbi in questione sono farsi la doccia, pettinarsi, radersi, lavarsi le mani, asciugarsi, pulirsi i denti e truccarsi. Farsi la doccia, sich duschen, la doccia, die dusche, farsi la doccia, sich duschen. L'indicative presence, l'indicativo presente. Mi faccio la doccia, io doccio me, io doccio me stesso. Ich dusche mich, ich dusche mich. Ti fai la doccia, tu docci te, du duscht dich, du duscht dich. Si fa la doccia, lui si fa la doccia, lui doccia se stesso, er duscht sich. Lei doccia se stessa, sie duscht sich. Ci facciamo la doccia. Noi docciamo noi stessi, wir duschen uns. Voi docciate voi stessi, ihr duscht euch. Loro docciano loro stessi, sie duschen sich. Avrete notato che nell'imparare i verbi riflessivi si ripassano anche i pronomi complemento, che in tedesco corrispondono all'accusativo. Mich, me, dich, te, sich, se, uns, noi, euch, voi, sich, loro. Vi traduco ora un paio di frasi con questo verbo riflessivo. Il bambino si fa la doccia, il bambino doccia se stesso, der Junge duscht sich, der Junge duscht sich. Su questa frase apro una parentesi. Questa frase, e non è l'unica, ci dà l'esempio del perché il tedesco è una lingua difficile da imparare rispetto all'inglese o al francese, ad esempio. Infatti, nel pronunciare le prime due parole della frase, notiamo che ci sono quattro vocali consecutive. Il bambino, der Junge, er Junge, poi la E di Junge non viene quasi pronunciata. Quindi, dopo le quattro vocali consecutive, è come se ci fossero tre consonanti seguite da altre tre consonanti. Nelle due parole finali, inoltre, c'è la T di duscht, che non si lega affatto bene con la S di sich. Der Junge duscht sich. Letto con molta lentezza, si riesce a pronunciare abbastanza bene la frase. Der Junge duscht sich. Der Junge duscht sich. Der Junge duscht sich. Nel pronunciare le parole in tedesco c'è anche un'altra difficoltà che si somma a questa. Infatti, in tedesco ci sono molte parole composte. E molte di queste parole hanno le consonanti consecutive. Vi faccio un esempio. Aziende che forniscono assistenza legale. In tedesco si traduce con un'unica parola. E in questa lunghissima parola di 39 lettere ci sono delle consonanti che si susseguono. Quindi immaginate pronunciare questa parola all'interno di una frase. Diventa davvero una cosa difficile. Aziende che forniscono assistenza legale. Rechtsschutz versicherungsgesellschaften Ovviamente, più lentamente la si pronuncia staccando le parole composte, più probabilità abbiamo di pronunciarla in modo corretto. Rechtsschutz versicherungsgesellschaften Passiamo ora alla seconda frase. Loro non si docciano tutti i giorni. Ve la traduco letteralmente. Loro docciano se stessi no tutti i giorni. Ora passiamo al secondo verbo riflessivo. E alla fine di questa prima parte, dedicata a questi due verbi riflessivi, impareremo insieme altre dieci frasi. Pettinarsi Sich kemmen Sich kemmen Il pettine Der kam Pettinarsi Sich kemmen Anche con questo verbo, per ora, impariamo solo il presente indicativo. Indicative presence Mi pettino Io pettino me Ich kemm mich Ti pettini Tu pettini te Du kemmst dich Lui pettina se stesso Er kemmt sich Lei pettina se stessa Sie kemmt sich Ci pettiniamo Wir kemmen uns Vi pettinate Haare kemmen Stavo facendo la doccia Ed è mancata l'acqua Io docciavo me E l'acqua Era firma Ich duschte mich Si fa prima la doccia E poi si fa un pisolino Lui doccia se stesso E poi sdraia se stesso Su un orecchio Er duscht sich Und dann legt sich Aufs uhr Er duscht sich Und dann legt sich Aufs uhr Ragazzi Attenzione Non c'è bisogno Di sforzarsi Per avere Una buona pronuncia In tedesco Una buona pronuncia Arriverà Vivendo E lavorando In Germania Quindi sul posto Parlando Con i tedeschi Con il tempo Cioè dovrà Passare Molto tempo Come minimo Un 6 mesi Anche più di un anno Quindi la pronuncia Una buona pronuncia La pronuncia Cosiddetta perfetta Verrà dopo Semmai Perché non è detto Anche perché I tedeschi Non hanno Una buona pronuncia Del tedesco Ad esempio Un bavarese Se parla in tedesco Avrà L'accento bavarese E non Un accento perfetto In tedesco E come per noi In Italia Se sentiamo Parlare in italiano Un milanese Ce ne accorgiamo Che è di Milano Se sentiamo Parlare un napoletano Ci accorgiamo Che è un napoletano Un palermitano Che è di Palermo Un romano Che è di Roma Anche se uno Si sforza a parlare Un italiano Perfetto Tra virgolette Cioè senza Accento Dialettale Qui non è che Bisogna diventare Degli attori Quindi studiare La dizione Fare dei corsi Per avere Una pronuncia perfetta Basta imparare bene A parlare tedesco Ci vuole del tempo Per parlare abbastanza bene In tedesco Ci vogliono almeno Un sei mesi Di corso E poi Lo si deve studiare Tra virgolette Sul posto Cioè parlando Con i tedeschi Il bambino Si fa la doccia Il bambino Doccia Se stesso Der Junge Duscht sich Der Junge Duscht sich Loro Non si docciano Tutti i giorni Loro Docciano Se stessi No Tutti i giorni Si duschen sich Nicht Jeden tag Si duschen sich Nicht Jeden tag Ti pettinerò Io I capelli Io A te I capelli Pettinerò Ich Wede Dir Die Haare Kemmen Ich Wede Dir Die Haare Kemmen Ich Wede Dir Die Haare Kemmen I I Grazie.